Il problema dunque è di arrivare entro il 30 dicembre con tutte le cose fatte perché non vorrei che in qualche modo si debbano ritornare i soldi, non li abbiamo spesi certo, ma se ritorniamo i soldi questa strada non si farà mai più, quindi è importante che ora si facciano i controlli velocemente perché bisogna vedere se le ditte sono a posto, se non hanno la capacità economica perché alla fine il lavoro è un miliardo e passa diviso in 4 lotti, ci sono più di 250 milioni all'otto, in media poi non lo so come sono suddivisi, però a questo punto devono essere ditte in grado di poter fare questi lavori, quindi si faranno i controlli, si farà la valutazione e poi verranno assegnati i lotti, questo entro il 31 dicembre, poi si vedrà quali sono i tempi di lavoro. Bene, bene, bene. Una cosa sta suscitando parecchia preoccupazione e sarà poi la politica a doverne discutere. In provincia di Ragusa ci siamo trovati in una situazione anomala che è quella che qualcuno sulle nostre teste sta decidendo di realizzare questo famoso parco degli iblei. Perché dico sulle nostre teste? Perché la gente normale, il signor Tumeno, la signora Iacono, per loro il parco è una cosa bella perché pure per me, guarda che meraviglia in questa fotografia. E loro pensano che il parco sia una specie di posto dove si può andare a fare la scampagnata. Ti fanno la griglia, ci mettono le panchine, magari le paperelle e poi andare a vedere al parco perché la parola parco fa pensare a questo. quindi se andate da qualcuno e dici ma tu sei favorito al parco degli iblei? A che c'è discussione? E come si dice ma che fa? Tu la vorresti levare la Villa Margherita? Ma neanche per sogno. Quindi c'è questa parola che fa pensare a chissà che. Invece vi devo dire che il parco è un grande territorio. Forse dicono gli aspetti, io non sono bravissimo, il più grande parco d'Italia perché andrebbe a coprire un gran numero di ettari perché andrebbe praticamente da Ragusa alla Rotonda fino ad arrivare a Catania dall'altra parte. quindi tutto il Monte Lauro, tutta quell'area fino a Ferla, Sortino, Vizzine, tutta quell'area sarà parco degli iblei. Dice bello, ci andiamo a fare le scampagnate. Non è così perché il parco vuol dire una esagerazione della tutela. Noi già abbiamo tante tutele paesaggistiche perché è giusto, tu qui non puoi andare a costruire un palazzo a quattro piani in una foto del genere. Quindi abbiamo tante tutele paesaggistiche. Ci sono addirittura, pensate, che il parco degli iblei arriva praticamente al McDonald's, un po' dietro il McDonald's, cioè quasi in piena città. Tutto questo non è possibile. E soprattutto le aziende che producono sono particolarmente preoccupate. E sapete qual è la cosa peggiore? Che quasi tutti, quasi tutti, gli organismi pubblici, quindi parliamo di comuni e anche province, Ragusa se la guarda la cosa piuttosto che intervenire, sono contrari. Eppure nessuno riesce a fermare questa macchina. L'altro ieri, Orazio Ragusa, aveva chiesto di prolungare, di andare ancora un po' più di tempo perché il ministero con questa famosa lettera dice in considerazione delle esigenze rappresentate, ci serve presto le modifiche, bisogna integrare tutto quanto perché dobbiamo sbrigarci con questo parco. Ora io mi chiedo, ma questa è la prima, il nuovo governo che è fatto di centro-destra, non ci sono grillini, ma non c'erano quasi più neanche loro, che sono stati quelli che in qualche modo hanno spinto, ma questa nuova realtà potrà in qualche modo rivedere e capire che sono tutti contrari i produttori, gli allevatori, quelli delle vacche, quelli che fanno una piccola, qualunque piccola iniziativa imprenditoriale, sono contrari al parco dei libri. Eppure perché c'è un piccolo gruppo di ambientalisti, non vi offendete, perché vedete è così, noi oggi abbiamo fatto dei tabù, per esempio non si può parlare di gay, non si può parlare di ambientalisti, non si può parlare di altre cose simili, perché appena tu le accendi ti salgono addosso, ti vengono a dire acqua e fanno l'inferno. Allora io dico, gli ambientalisti con tutto il rispetto, ma non è il caso di controllare, per dirne una, noi siamo produttori di gas, tutta la nostra provincia come di petrolio. Ebbene voi sapete che ci sono investimenti forti sul nostro territorio, da aziende straniere che hanno già pronti 40-50 milioni di Euro da investire per ricerche di gas, a noi oggi ci serve il gas, bene, se tu vai lì e cerchi il gas non te lo fanno cercare. E allora ecco dove qualche volta bisognerà cambiare modo di vedere, gli ambientalisti hanno ragione, ma ci vuole sempre un po' di grano salis su queste cose. Quindi io direi a coloro che hanno interesse in questa vicenda di creare un organismo forte che possa controbattere, perché poi vedete quando quattro no-trib si riuniscono, fanno burdello come se fossero 400 mila, poi ci sono 40 aziende che dicono non possiamo lavorare, non ci frega niente a nessuno, però quattro ambientalisti non li possiamo toccare, ma questa è la incapacità di chi amministra. Io spero che anche il governo regionale possa rivedere queste cose parlando di inceneritori, parlando di tante cose che ci servirebbero davvero. Come possiamo valutare tutto questo? Ho chiesto al nostro Peppe Lizio che oggi riprende la sua rubrica settimanale del mercoledì di affrontare proprio questo argomento. Vediamo.